Verso la completa guarigione il paziente numero uno pugliese. L'uomo di Torricella ricoverato all'ospedale Moscati di Taranto dallo scorso 26 febbraio sta bene. Stando a quanto si apprende si dovranno attendere gli esiti del prossimo tampone per poterlo dimettere. Sarebbero invece stabili le condizioni della moglie dell'uomo ricoverata nello stesso nosocomio tarantino nel reparto di terapia intensiva da qualche giorno. Buone notizie giungono anche in merito alle condizioni del terzo caso registrato in provincia di Taranto ovvero il fratello del paziente numero uno. Risultato positivo ma in isolamento fiduciario presso la sua abitazione. Non ci sono state complicazioni ed anche per lui si potrebbe ipotizzare tra non molto la completa guarigione.